Santo Stefano Daveto e tutta la valle hanno raggiunto il picco di turisti nelle due settimane vicine al Ferragosto. La presenza dei villeggianti resterà alta sino al 21 agosto. I dati, ancora provvisori, sono comunque giudicati positivi dagli operatori, come riferisce il vice sindaco Maurizio Monteverde. Siamo partiti non proprio bene, adesso invece stiamo migliorando, fine settimana facciamo pieno. Soprattutto la cosa che mi colpisce è nelle frazioni. Tutte le case aperte, quindi questo è un buon segnale per il turismo. Se tradizionalmente i frequentatori della Val d'Aveto sono gli abituè che tornano ogni estate, quest'anno si registra anche l'arrivo, magari circoscritto ma significativo, di turisti neofiti. Secondo me ci sono anche nuovi visitatori, perché stando all'ufficio informazioni turistiche vedo tanta gente che viene a chiedere le strade, i sentieri, i povie. Per chi volesse fare delle passeggiate sui sentieri, ci sono delle guide escursionistiche a disposizione in questo periodo? Sì, lavorano in sintonia con l'ufficio informazioni turistiche, dove la gente può prendere le informazioni e poi partecipare a queste escursioni. Santo Stefano d'Aveto, per il turismo quanto stanzia? Siamo sui 50 mila euro che riusciamo a spendere per il turismo. Si vorrebbe spendere molto di più, però le casse ci danno questo. Per gli alberghi e i ristoranti della Valdaveto, le due settimane ferragostane hanno portato al tutto esaurito. Sentiamo Sergio Cell, la titolare dell'hotel Groppo Rosso. Quest'anno il livello, secondo me, io parlo d'albergo, è superiore, all'anno scorso specialmente. Che tipo di clientela? Ma i più tanti sono, diciamo, genovesi, qualche piacentino, ma la maggior parte sono libri. Diciamo che ci sono anche dei milanesi abituati. E restate aperti comunque anche sino a settembre? Noi rimaneremo aperti finché c'è gente, quindi anche metà settembre, anche oltre, basta che ci sia gente. I prezzi quali sono? I prezzi, finora eravamo a 60 euro a persona, pensione completa. Dopodiché scendiamo a settembre a 50 euro a persona, pensione completa.